buongiorno a tutti oggi in gran gara in cucina faremo un gran bel piatto può essere anche un piatto povero un primo piatto povero oggi faremo spaghetti con peperoni rossi e fave quelle secche marroncine allora preparazione gli ingredienti sono due peperoni medium rossi un 115 praticamente di fave una cipolla è un mezzo aglio sale olio pepe quanto basta 170 gammi di spaghetti mezzo cosa di brodo per mettere il vostro brodo per lo soffritto per il vostro spaghetto e preparazione fare il vostro soffritto con fave peperoni almeno un quarto d'ora 20 minuti del cuocere il soffritto bollire la vostra pasta al dente intingere nel vostro soffritto farlo cuocere e girare le parti e amalgamare bene in tutto finito il piatto con decorazione parmigiano pecorino sempre un figlio di olio sopra e il piatto è rifinito lo vediamo dopo bello rifinito è pronto ci vediamo fra poco con gran gala che oggi ci sono tante sorprese di salati e dolci a fra poco grazie 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 grazie